Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna si è chilometri di coda per un incidente al chilometro 315 tra Valdarno e Firenze Sud. Sempre verso Bologna rallentamenti tra Valdichiano e Monte San Savino e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. In Fippili incidente al chilometro 23 tra Empoli e Empoli Est verso Firenze. Spostandoci sulla strada statale 12 della Betonnet del Brennero, sono in corso le attività necessarie a riaprire in sicurezza il tratto all'altezza di Borgo a Mozzano al chilometro 4500 in provincia di Lucca, interessato dalla serata di ieri dalla caduta di massi provenienti dal versante roccioso. Infine per i traghetti, la corsa da Piombino a Portoferraio via Cavo delle 16.05 è stata cancellata per maltempo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!